Io sono molto molto fiero che grazie al nostro Presidente. Applicate su quattro ambiti, casa, persona, impresa lavoro e settore auto. Va veramente incontro a tutte quelle che sono le esigenze della clientela e dell'Associato Confesercenti. L'Associato Confesercenti che non è più solo impresa ma è anche cittadino perché ci siamo da un po' di tempo aperti anche a quello, anche a quel mondo lì. E i forti sconti, tutte le agevolazioni che Generali ci ha concesso, facendo anche degli sforzi notevoli da questo punto di vista, ci rende molto felici, molto fieri. E siamo sicuri che nell'ottica della vicinanza con il nostro associato riusciremo a raggiungere anche più capillarmente ogni nostro singolo associato. e ad aiutarlo una volta di più perché oggi come oggi soprattutto ce n'è bisogno. La soluzione per la casa prevede una copertura per danni verso terzi e tutela i beni contro eventi estremi come ad esempio gli incendi. Quella per la salute e il benessere della persona offre tutele assicurative che prevedono indennizi e rendite vitalizie in caso di inabilità a seguito di infortuni, malattie, percorsi di prevenzione e rimborsi per spese mediche. Davvero interessante la copertura assicurativa sulle imprese che protegge l'integrità del capitale investito oppure tutela uffici e studi professionali secondo esigenze specifiche. Infine non può mancare quella riguardante il settore auto che copre danni inerenti a furto e incendio. I prodotti che spaziano dalla protezione delle attività commerciali alla protezione delle attività artigianali alla protezione delle attività soprattutto ricettive e turistiche adesso che andiamo incontro anche forse spero a un'esplosione del turismo a Pesaro anche per il 2024 con prodotti innovativi e condizioni economiche di agevolazioni importanti per i clienti.